Procedono i lavori di ammodernamento e copertura al centro di atletica Prati Mini di Clusone dove entro la fine di agosto la struttura potrà riprendere la regolare attività. Il centro dato in gestione due anni fa dalla comunità montana al comune di Clusone conseguentemente ad una convenzione necessitava del rifacimento degli spogliatoi e del posizionamento di una copertura che ben si armonizza con la zona tribune garantendo maggior protezione agli spettatori che assisteranno alle manifestazioni programmate a partire dalla prossima stagione. I lavori consisteranno praticamente nel rifacimento quasi compressivo di tutti gli spogliatoi in quanto verranno rifatti tutti gli impianti, tutta la parte impiantistica oltre che i pavimenti, i serramenti, le tinteggiature e quindi avere poi alla fine un risultato ottimale. I lavori in fase di ultimazione acquisiranno maggior valore quando accanto alla struttura assorgerà il nuovo palasport previsto in tre anni di lavori su una superficie coperta di 1850 metri quadrati 22.000 metri cubi di volume complessivo, un'area di gioco di 650 metri quadrati, 700 posti a sedere e una capienza di 1200 spettatori. L'importo complessivo dei lavori è di 454.000 euro reperiti in parte con l'alienazione di un pezzo di terreno al comune di Crusone per la realizzazione del centro del palazzetto dello sport e 154.000 dalla provincia come contributo a fondo perduto. Questi sono gli interventi che abbiamo concordato con il comune di Crusone tant'è che abbiamo previsto anche la realizzazione del fotovoltaico proprio per risparmiare su quelli che saranno i futuri costi di gestione che il comune di Crusone dovrà affrontare.